ciao silvana benvenuta grazie cosa c'è qua dentro le cappessanti tanto che a master se ti ha tirato un brutto scherzo e si è un brutto ricordo di un pressure non potevano metterti la buratta le cime di rapa e le fave ovviamente poi aggiunto un po di pinoli il broccolo peperoncino manca l'ingrediente fondamentale